Perché poi che cos'è in radice che ha portato all'omicidio? C'è una bella tradizione già biblica ma poi patristica, ve la provo a leggere, prendendo un bel testo di Gregorio Magno, che la fa risalire alla invidia. Alla invidia. Caino arrivò a perpetrare il fratricidio perché si infuriò nel vedere preferito a lui Abele, del quale Dio accettò il sacrificio rifiutando il suo, non sopportando che fosse migliore di sé, invidiandolo, non si diede pace finché non lo eliminò. E Gregorio Magno in questo testo prosegue, facendo della storia di Israele una storia di invidia. Prosegue dicendo, Esau si accania per seguitare il fratello perché, perduta la benedizione di primogenito, non sopportò di essere inferiore a colui che era nato dopo di lui. I fratelli vendettero Giuseppe e gli smailiti di passaggio perché, conosciuto il segreto da lui rivelato, per impedire che diventasse superiore ad essi, si sforzarono di ostacolare i suoi progressi. Saul perseguitò Davide, suo suddito, scagliandogli contro la lancia perché, vedendolo crescere ogni giorno più in valore e successo, ebbe paura che diventasse più grande di lui. Eccetera, eccetera. Gregorio Magno fa questo lungo discorso sull'invidia come motore di tante azioni umane, a partire da un versetto di Giobbe, 5, versetto 2. Dice Giobbe, 5, versetto 2, nella traduzione che Gregorio ha davanti latina, l'invidia uccide il piccolo. Quando uno invidia, si sente inferiore a colui che invidia, ma l'invidia ha questo strano potere di essere il più stupido dei vizi, perché non vi dà nessun godimento di nessun tipo, né quello che vi può dare la lussuria, né quello che vi può dare la gola, né quello che vi può dare l'accumulo di bene, di soldi, eccetera, perché si consuma tutto in una sofferenza interiore. L'invidia tanto è diffusa, tanto è sofferenza pura per l'invidioso. Basilio scrive, l'invidia distrugge la vita. Di più, l'invidia che è uno dei grandi motori della nostra società, la pubblicità ci sta dicendo, e ne siamo imbevuti da qui a tutti i momenti della giornata, tu puoi essere invidiabile. Cosa ci dice la pubblicità? Ci dice che innanzitutto l'invidia ha una dimensione sociale. Questo l'avevano ben capito soprattutto già gli autori medievali, Gregorio Magno l'aveva ben capito, conosceva gli ambienti delle corti, conosceva gli ambienti accademici, ci sono gli ambienti in cui le invidie diventano, sono il pane quotidiano, tale quale ieri, tale quale oggi, né più né meno. Andate tra i colleghi di università, andate per la carità, negli ambiti clericali, ecclesiastici e così via. Ebbene, la pubblicità è quella che agisce sul nostro meccanismo di, si dice, noi possiamo diventare invidiabili, per cui la pubblicità non tende tanto a vendervi un prodotto, sì certo quello, ma agisce sull'immaginario, agisce sui sogni, agisce sul meccanismo di invidia. Puoi diventare invidiabile come loro, puoi essere uno su cui gli altri puntano gli occhi. È interessante questo, perché io credo che dovremmo riflettere sull'invidia, perché da subito il nostro testo ci dice che è uno dei meccanismi più potenti in azione tra gli umani. Notate anche un'altra cosa. L'invidia è uno degli atteggiamenti non confessabili. Un invidioso non potrà mai confessare di essere invidioso, perché se io confesso di essere invidioso di lui, riconosco che lui è superiore, ed è esattamente questo che mi sta sulle scatole. Non lo sopporto che l'altro abbia quelle cose che io vorrei avere. L'invidia è la tristezza, la sofferenza per la felicità altrui, per il bene altrui. Ma non lo posso riconoscere, perché se lo riconosco, riconosco la mia inferiorità. Dunque, nell'invidia mi condanno a una sorta di sofferenza senza fine. Secondo me ha fatto così Dante a metterli nel purgatorio, gli invidiosi. Se li mandava anche all'inferno, poverini, abbiamo vissuto l'inferno qui e anche di là. Li ha messi al purgatorio, e li ha messi, interessante, non mi ricordo più il canto, ma appaiono appoggiati l'uni agli altri, loro che hanno mai sopportato l'altro, appoggiati l'uno all'altro, accanto a una parete rocciosa grigia, come grigia e livida è stata la loro vita, con le palpebre cucite. Perché invidia ha a che fare con invidere. È il guardare di sbieco, il guardare di sottecchi, è il guardar torvo, ed è anche il non vederci più a un certo punto. Perché la tua immagine dell'altro si sovrappone a tal punto alla realtà, che vedi semplicemente quel che vuoi vedere. Ma appunto, è inconfessabile la invidia, che nasce da un senso di essere privato di qualcosa. Questo mi fa nascere la rabbia, questo è Caino, tale e quale. Perché lui sì e io no? Mi fa nascere la rabbia, la collera, che però viene repressa, negata, perché se mi mostro nella collera vedono tutti che... La rabbia invece è visibilissima, è uno dei vizi o delle emozioni più evidenti e appariscenti. E la rabbia porta alla svalutazione, alla denigrazione dell'oggetto. Così, là, cosa succede? Che l'invidia torna al punto di partenza, la frustrazione, il senso di deprivazione. Normalmente l'invidioso ha anche una discreta, una bassa stima di sé, un senso di inferiorità. Ecco, è l'invidia che si mette, che entra in gioco in questo testo. È l'invidia che entra in gioco in questo testo. È l'invidia a vedere, dunque, con il guardare. C'è un bel testo nel Nuovo Testamento, nella parabola dell'operaio dell'undicesima ora, avete presente? Perché anche lì c'è un problema, che affronteremo tra poco. Insomma, un padrone della vigna fa venire a lavorare nella sua vigna gente dalle otto del mattino, fino, mettiamo, alle cinque del pomeriggio. Ne piglia uno alle quattro del pomeriggio, lo fa venire lì e gli dà la stessa paga che agli altri. Beh, insomma. Però, se lo sapete, anche voi dite che qui è ingiusto. La risposta del testo, e le parabole servono sempre a questo, non tanto a dare delle lezioni appunto di come si amministra un campo, come si paga questo, come si lavora la campagna o come si conduce una pesca. No, cercano di spiazzare il credente, il lettore, per, operando sul suo, dire, oh, com'è possibile, operando sul suo spiazzamento, dirgli, così agisce Dio. Il tuo occhio è cattivo perché io sono buono, se io voglio dare a questo tanto quanto a te, non abbiamo pattuito insieme con te per un denaro, te lo do. E io voglio dare a lui anche come a te. Posso? Posso fare del mio quello che voglio? O il tuo occhio è cattivo. Of thalmos poneros. Malocchio. Vi dice qualcosa? Malocchio. Nella tradizione mediterranea il malocchio è una potenza molto, molto forte e non solo nel passato, come dire, sono tradizioni estremamente, estremamente diffuso, da cui ci si difende come? Di solito perché ci sono quegli amuleti che devono attrarre lo sguardo per evitare che lo sguardo altrui, volutamente o intenzionalmente, si posi su di me e mi getti la sua influenza nefasta. L'occhio cattivo, la vendetta, scusate la vendetta, l'invidia, ma appunto si tratta sempre di imparare a guardare. Si tratta di mettere in atto una ascesi dello sguardo. Si tratta di imparare a vedere perché già nello sguardo passa l'accoglienza, passa il livore, passa l'odio. Se voi vi ricordate una delle più belle immagini della invidia di Giotto nella cappella degli Scrovegni, è una donna anziana dalla cui bocca esce una vipera, un serbè, che gli si rivolta contro gli occhi. Si parla della cecità che l'invidia produce. Ecco, è chiaro che lì la tradizione cristiana si dice che è un vizio capitale. E poi, di fondo, è un gran meccanismo di difesa, è un disperatissimo tentativo di salvaguardare la propria identità minacciata dal confronto con gli altri. Oggi uno psicologo si esprimerebbe in questi termini qui. E l'invidia, e andiamo a concludere per passare all'altro tema del nostro testo, la collera, la collera repressa. L'invidia è un po' differente dalla gelosia. Normalmente la gelosia nasce in un rapporto a tre. L'invidia è un sentimento, direi, quasi più arcaico, più antico, e che riguarda l'interazione tra due soggetti. La gelosia è una struttura mentale, come dire, un po' più complicata. Di solito rientra negli spazi triangolari, oltre a quelli dei triangoli amorosi, appunto, ma insomma, non solo in quelli. L'invidia è più statica, mentre l'invidia si gioca tutto nell'interiorità. Se voi leggete il romanzo di Balzac, la cugina Beth, la cugina Beth, forse in italiano tradotto così, c'è questa cugina che c'è la sua sorella lì, Adela, Adelina, non mi ricordo più, che è bella, è brava, sposa il barone non so chi, e lei che resta brutta, zitella, eccetera, in casa sua, e nessuno si rende conto che lei passa la sua vita a struggersi di invidia per. E c'è alla fine, quando Balzac decide di far uscire dalla mente di Beth i suoi pensieri, ci fa dire che lei ha sempre vissuto nell'invidia di quella che è andata a abitare nell'ultimo piano del palazzo, mentre lei deve vivere nello scantinato. Perché? Perché lei sì, perché io no. Ecco, come si manifesta l'invidia? L'invidia si manifesta in un enorme impoverimento della capacità di amare della persona, di provare gratitudine. L'invidioso non prova gratitudine. Nell'incapacità di gioire della riuscita degli altri. Ci sono delle bellissime definizioni, soprattutto di Tommaso d'Aquino, come la sofferenza per la riuscita di un altro. Sto male se l'altro ha o riesce in cose in cui vorrei avere io o riuscirei io. Ed è anche la gioia se vedo che l'altro mi va qualcosa male. Quello mi fa gioire. L'invidioso fa fatica a far fiducia. Noi vediamo che tra Caino e Abele non si riesce a instaurare un rapporto di fiducia. Non si riesce a entrare nel faccia a faccia. Non c'è lo sguardo negli occhi. C'è spesso l'incapacità di fare dei complimenti autentici. Spesso se uno è invidioso deve fare complimenti al collega che ha avuto la promozione, lo fa in una maniera tale che è stra-evidente che mentre gli dice come sono bravo, sono proprio contento, lo dice in una maniera tale che l'altro sente che è come se lo stesse strozzando. Però l'invidia può avere come sempre. Non esiste mai il nero, il bianco. Esistono delle potenze che possono essere orientate, educate. Già Aristotele, poi Tommaso parlano di un'invidia buona. Quella che conduce a una emulazione di fronte a una persona enormemente superiore. Ammirala, amala, impara. Del resto di fatto le invidia vengono trapari. Insomma, se io voglio essere un buon calciatore non mi metto a guardare Maradona. Insomma, devo accontentarmi di un modello un po' più bassino, se no veramente, altro che... Di solito l'invidia avviene tra pari, tra simili, tra vicini. Si tratta di educarsi all'alterità allora. Si tratta di avere ammirazione e accettare l'altro e dunque imparare dall'altro. La vicenda di Salieri e di Mozart è significativa. Salieri era tutt'altro che un banale compositore, ma indubbiamente, al di là della ricostruzione filmica che si riporta davvero la storicità degli fatti, poco importa. Ma insomma, il meccanismo è interessante. Invidiare quel personaggio di Mozart, certamente persona con tratti scomposti, diciamo così, che però, da cui esce una musica assolutamente divina, era intollerabile per il buon Pio Salieri. Però la invidia può anche evolvere positivamente. Guido Reni, un grandissimo pittore, ha avuto la sfortuna di vivere quando c'era anche Caravaggio, insomma, però ha imparato da Caravaggio. Ha saputo anche emulare Caravaggio, ha saputo imparare e ha saputo dunque far evolvere il proprio stile. E ne abbiamo degli esempi di innovazioni pittoriche che lui ha saputo fare migliorandosi grazie a un altro che era più bravo di lui. Ecco, certamente è difficile questa accettazione perché comporta, ancora una volta, l'accettazione di una perdita, l'elaborazione di un lutto, l'accettazione di un limite. Io non sono chi vorrei essere. E lì noi dovremmo imparare quel principio sano di adesione al reale che è salvifico. La creaturalità, ci stiamo occupando di questo, ci porta ad aderire alla realtà e a fuggire l'idealizzazione come ciò che ci porta a tradire poi noi stessi e la realtà. È una via di salvezza. Quando gli psicologi parlano di esame di realtà dicono qualcosa di molto saggio. Spesso è con il battere il naso sulla realtà che posso prendere coscienza appunto della mia forma, delle relazioni con gli altri e entrare in un rapporto meno nevrotico con gli altri e con la realtà. Ma accanto all'invidia c'è la collera, grande altro elemento tipico dell'umano e grande elemento di difficile gestione. Caino è esattamente incollerito e non riesce a esprimere la propria collera. E' sempre Gregorio Magno, in un testo che non so se ho qui davanti a me, non mi ricordo più, che dice che il primo omicidio è nato da una collera repressa. La collera è energia. La collera è un'emozione, prima di essere un vizio. E' un'emozione, come lo è la gioia. Può avere un'evoluzione positiva, può avere un'evoluzione negativa. Si tratta di imparare a esprimere la collera, a mettere una parola sulla collera. Certo, anche la parola può essere violenta. Se io nella mia rabbia dico, tu sei un pazzo, tu non capisci niente, io sto uccidendo. Se io dico, con tutti i toni veimenti, mi hai davvero fatto star male, mi hai davvero fatto soffrire con il tuo comportamento. E non, guarda che con il tuo comportamento io credo di essere un po' ferito. No, se uno è arrabbiato, è arrabbiato. Però, devo lasciare aperto la porta alla relazione, perché anche nell'arrabbiatura, che fa parte della vita, santo cielo, fa parte dei nostri rapporti, fa parte del rapporto con Dio, fa parte del rapporto tra marito e mogli, tra genitori e figli. E guai se non ci fosse, e guai se sempre venisse a repressa, guai se sempre... O ci distruggiamo, a vicenda, o ci autodistruggiamo. La collera necessita di una espressione, assolutamente, tanto che la scrittura è piena di sante collere. I profeti non erano, come si direbbe, delle mammolette, il loro linguaggio non era esattamente dai ducande, il loro linguaggio era forte, perfino violento, ma traduceva lo sdegno, lo scandalo, la collera di Dio di fronte all'ingiustizia. Ecco, vi è dunque una collera che va imparata a essere assunta e gestita. Di più, anche qui occorrerebbe chiedersi, e chiedere a Caino, cioè fare della collera un lavoro. Ancora Agostino c'è un passaggio, nella collera non bisogna... la cosa importante quando si è in collera è chiedersi perché. Perché? Perché vado in collera? Perché questo comportamento, questa azione, questa persona che ha detto questa cosa, in me suscita una tale ribellione, rabbia, collera? Provate a pensare, nella vostra vita, delle situazioni, delle cose, delle persone, delle parole che suscitano in voi una collera irrefrenabile, irrepremibile. Lì la cosa è da fare, chiedetevi perché, ascoltatevi, provate ad ascoltarvi voi, e vedrete che la risposta vi verrà se avete una certa capacità di dialogo interiore, se avete una certa capacità di ascoltarvi. Perché la collera è rivelatrice di voi, prima che della ingiustizia che hanno fatto gli altri, certo anche di quello, ma è rivelatrice di voi. Come mai la stessa cosa che magari succede qui, manda in bestia me e lascia indifferenti voi? Come mai? Si vede che dice qualcosa di me. E' importante prendere dunque la collera come elemento che mi aiuta a comprendere chi io sono, che cosa mi abita. E questo è molto interessante. Di più, senza calcolare che c'è una collera che può essere espressa anche nei confronti di Dio. I salmi, le preghiere bibliche, sono anche un rivolgere, indirizzare anche un linguaggio di collera nei confronti di Dio, rivolgerlo a Dio, dove il linguaggio è di collera e di sdegno, è di collera per ciò che si vede nella storia, l'ingiustizia, il male, e si chiede conto a Dio, si entra in un tenzone con Dio, si entra in un quasi combattimento con Dio. Ecco, certamente c'è qui questo grande elemento che, vabbè, non possiamo poi affrontare più di tanto, ma che è uno dei grandi elementi costitutivi della personalità umana, della condizione umana. E indubbiamente con il versetto 13, quando Caino arriva a riconoscere, a entrare nella responsabilità, e a uscire da quel meccanismo dell'autogiustificazione della delega, che abbiamo visto operante stamattina, Adamo, Eva, è stata la donna che mi ha messo vicino, è stato il serpente, c'è sempre un altro, è la funzione grande degli altri, spesso ignorati, ma quando c'è da dare la colpa, vanno sempre bene, sono sempre utili. Ebbene, a un certo punto Caino dice, la mia colpa, la mia responsabilità. Ecco, un passo di umanità, riconoscere di essere il responsabile di ciò che si è commesso. E addirittura arriva a dire, la mia colpa forse è troppo grande per essere alzata, sollevata, per essere perdonata. Certamente il cammino del perdono, che è di nuovo un cammino molto importante nelle relazioni umane, un cammino che si oppone a quello che vedremo subito dopo, della vendetta, interessante, è come in questo testo troviamo, invidia, collera, vendetta e perdono. Il perdono è un po' l'opposto della vendetta. Della vendetta parliamo subito dopo a proposito di Lamech. Quando Lamech fa questo grido belluino, rivolgendosi alle sue due donne, c'è già la poligamia, ascoltate la mia voce, mogli di Lamech, porgete l'orecchio al mio dire. Ho ucciso un uomo per una mia scalfitura, ma fatto un graffio, io l'ho ucciso. Ho ucciso un ragazzo per un mio livido. Niente a dire, ma benedetta la legge del taglione, se uno ti fa un graffio, tu gli fai un graffio, se uno ti fa un livido, gli fai un livido. No, no, qui siamo alla vendetta smisurata, senza fine, siamo alla faida, siamo alla dismisura tra l'evento accaduto e gli effetti che ha. Ma lo vedremo. Ma prima Caino, l'omicida, dice, invoca o dice la difficoltà dell'ottenere il perdono, dell'essere perdonato. Del resto il perdono inizia quando si accetta di rinunciare alla vendetta. Il primo passo per poter entrare in un cammino eventuale di perdono è dire, rinuncio a vendicarmi, a fare delle ritorsioni contro chi ha fatto del male. Ma significa anche riconoscere che si sta soffrendo. La vittima ha tutto il diritto di riconoscere che sta soffrendo per il male subito e che ha tutto il diritto di andare in collera per questo e di esprimere la collera. Perché spesso è proprio così che si arriva anche a entrare in un cammino di riconciliazione. A volte avviene in processi psicologici di riconciliazione di persone che hanno subito magari delle violenze molto tempo prima e che cercano di riconciliarsi con il passato, con le figure che hanno compiuto abusi o violenze, eccetera. E lì spesso il poter gridare, dire, esprimere la propria rabbia contro è importante per poter arrivare a sostenere di nuovo la visione del volto dell'altro. È anche importante in tutto questo avere qualcuno con cui poter dire, elaborare ciò che uno sta vivendo di sofferenza e anche, ovviamente, dare il nome a ciò che si è perso con il male subito. Perché Caino ha ammazzato Abele e Abele la vita l'ha persa. E questo non viene dimenticato. Questo non viene... Se io uccido una persona, i suoi genitori sono privati per sempre di questa persona. Il perdono non è dimenticare, non è usare un colpo di spugna. Anzi, il perdono avviene solo quando si ricorda. Quando si ricorda. Se non si ricorda, si ripete. Si ripete. Chi non ha caso, spesso quelli che compiono azioni anche violente contro bambini, ok, sono quelli che l'hanno subita a loro volta, non avendo avuto strumenti per verbalizzarla e dirla, non possono che entrare nella terrificante coazione a ripetere. Se invece riesco a ricordare, posso fare qualche cosa del male che ho subito. posso elaborarlo, posso entrare in un cammino di reintegrazione e riconciliazione. E si può arrivare addirittura a trovare un senso al male ricevuto. Lì, se avessimo il tempo di leggere tutto il capitolo dal 12 ai 50 della Genesi, vedremmo la bellissima storia di Giuseppe, che è esattamente questo. La storia della riconciliazione a partire da un male subito, in modo gratuito, in modo veramente anche ripugnante, e che ha ucciso una parte della vita di Giuseppe. Si potrà dire che è rimasto vivo, ma la vita che lui aveva, che era la sua, che avrebbe potuto, dovuto, probabilmente anche voluto vivere, gli è stata amputata da quello che i suoi fratelli hanno fatto. Poi certo, il testo, nella sua lunga parabola, arriva a mostrarci che anche a partire da situazioni così segnate, si può arrivare a trovare del bene, la classica frase che Dio scrive dritto anche nelle nostre righe storte, ma certamente questo significa un cammino molto, molto lungo. E all'interno del male subito, anche quando si arriva a perdonare, non c'è da dire, no, non è stato niente, è stato niente, è stato tanto, e bisogna dare il nome a tutto questo. Così forse si può anche arrivare a un percorso di perdono, di comprendere anche l'offensore come un fratello, un figlio d'Adamo che il male ha allontanato da me. Certo, il proseguo del nostro testo arriva a portarci anche a spazi di violenza ancora più profondi, se più avanti avremo poi il discorso anche a livello di popolo, a livello di discorso della guerra, della potenza totalitaria con Babele, tuttavia la prosecuzione della storia, in capitolo 4 dal 17 fino alla fine, trova il suo apice, ve lo dicevo già, nel grido di Lamech. All'interno dell'evoluzione dei lavori, dello sviluppo delle arti, della nascita della musica, l'artigianato, eccetera, c'è anche questo svilupparsi dei costumi, che sono costumi sociali, costumi, c'è la poligamia, ci sono alcuni che interpretano il nome Nama, sarebbe la bella, la dolce, forse come riferimento a una prostituzione, e come dire, c'è il progredire e del bene e del male, diciamo così. Ma quello che mi interessa di più è un'altra istanza, un'ultima istanza, quella della vendetta, dell'uomo che sceglie di fare il male e che si determina a questo. Innanzitutto non è affatto vero, è quello che diceva Platone, che l'uomo se fa il male lo fa involontariamente, che non è, non è, se voi leggete il Riccardo III di Shakespeare, inizia con il duca di Glucester, che dice, io sono nato deforme, sono brutto, non potrò mai aspirare ad avere le gioie che tutti hanno, perché la natura mi ha fatto così disgraziato che faccio schifo. Dunque, io mi determino a fare il male, io voglio essere malvagio e io farò il male. È come se la natura mi dovesse dare una riparazione, me la piglio io, io mi determino a essere malvagio. La vendetta, perché è così fascinosa la vendetta? Voi mi direte, ma non è così fascinosa. Guardate la stragrande maggioranza dei film iperguardati, ipervendati, sono storie di vendetta. Sono storie in cui c'è uno che subisce qualche cosa e che deve far fuori tutti gli altri per fare giustizia. E' uno dei sentimenti, non so se si può chiamare sentimenti, delle realtà più intriganti, secondo me, la vendetta. Perché che cosa avviene nella vendetta? Nella vendetta c'è una ribellione contro il tempo, se ci pensate bene. C'è un ricreare l'ordine del tempo. La vendetta dice che il passato non è passato. La vendetta mi stravolge l'ordine del tempo. Quella cosa avvenuta quel giorno là non è passata, è presente, sempre presente. La vendetta rende il passato sempre presente, sempre attuale. E' come se uno, anche a distanza di dieci anni, vivesse, non nell'oggi, ma avendo davanti gli occhi, questi occhi sbarrati, che vedono solo ciò che è avvenuto dieci anni fa, il torto che mi ha fatto quella persona e che attende. Giustizia? Vendetta? Ecco, la vendetta ha questo di straordinario, diciamo così, instaura un nuovo ordine del tempo. Il passato non è passato, è attuale. Al tempo stesso la vendetta resta prigioniera del passato. E lì è la legge, la giustizia, che può aprire un futuro. La legge dà un futuro. La legge guarda al futuro. La vendetta resta chiusa nel passato. Tragicamente. Ma in questo c'è qualche cosa, spero che mi capiate in questo, di fascino divino della vendetta. Il Dio che crea è il Dio che crea il tempo. Il fascino divino della vendetta è esattamente nel fatto che il tempo, il suo ordine, viene sconvolto e ricreato. Il passato non è passato, il passato è attuale. Io non so se avete mai letto il Conte di Montecristo. Il Conte di Montecristo è uno dei più grandi romanzi costruiti, è una grande architettura della vendetta, dall'inizio alla fine. Geniale, straordinario. E il fascino del Conte di Montecristo, quel fascino che abbaglia e ammaglia tutti quelli che lo incontrano, è un fascino divino. Sembra sovrumano il Conte di Montecristo. Il Vendicatore incute timore. Il Vendicatore è una figura divina. È un Dio. Fa quello che lui vuole. Il Conte di Montecristo mette in atto tutto ciò che lui predetermina, perché lui sa. Gli altri non sanno. E dunque, per vendicarsi di ciò che è avvenuto tanti anni prima, lui mette in atto pian piano la sua strategia di annientamento degli altri. Egli sa tutto. Gli altri non sanno. Domina gli eventi, perché? Perché lui sa già in anticipo quello che sta per mettere in atto. Lui sa, gli altri non sanno. Lui conosce mentre lui è sconosciuto. Chi è il nome del Vendicatore? Chi è il nome del Conte di Montecristo? Tutti pensano che sia il Conte di Montecristo. No. Lui è Edmond d'Antes. Quel marinaio che avrebbe voluto sposare Mercedes e che invece è stato fregato e la sua vita è stata distrutta da degli altri, ma lui, una volta evaso dalla prigione, eccetera, mette in atto la sua vendetta. E' interessante, la vendetta appare essere questa forma di fossilizzazione del passato che ha un fascino enorme, al tempo stesso ha la sua pena in se stessa, proprio perché uno si rende ostaggio del passato. Il perdono si situa qui come invece ciò che crea futuro, quando invece, nella logica della vendetta, della faida, resto prigioniero del passato. Il perdono apre futuro. La vendetta mi tiene inchiodato al passato. Certe facce di persone impegnate in faide da 10, 20, 30 anni in certi paesini del Sud Italia sembrano delle statue dei bassorilievi assiri, rimasti al passato e a tutt'oggi attaccati a questo punto d'onore da vendicare e lavare con il sangue. E voi capite che questo è un tipo di atteggiamento che può fascinare l'uomo, lo può sedurre, storie di vendette di faide sono appunto non poi così lontane, ma al tempo stesso resta all'interno di un cammino non di umanizzazione, non di vita, ma di morte, mentre si può dispiegare un cammino di perdono che è capace di aprire un futuro anche là dove è stato seminato del male. Come nella vicenda di Caino e di Abele. Il fatto che Caino diventi costruttore di città, come lo dobbiamo interpretare? È una ribellione al fatto che Dio gli ha detto tu sarai ramingo, vagabondo? Oppure forse è anche il segno che ormai egli vuole reincontrare le persone, essere in una città significa essere sedentari, e non avere più paura di essere ucciso e dunque di rientrare all'interno di un rapporto, di una relazione, di un rapporto interpersonale, sociale e politico di riconoscimento e di accoglienza reciproca. Anche per Caino c'è un futuro.